Li chiamano guilty pleasure, ovvero piaceri colpevoli. Cosa sono? Sono film non proprio eccezionali, a volte invecchiati male, altri nati già vecchi e talmente brutti da fare il giro e diventare belli. Eppure a loro vogliamo bene lo stesso, perché ci siamo cresciuti, perché ci fanno tenerezza o perché semplicemente sanno sempre intrattenerci e basta, senza pretese, col cervello spetto, come ogni tanto ci piace vedere i film. Sono film che meritavano una rubrica mensile tutta loro ed eccola qui. E visto che Godzilla sta per tornare sul grande schermo col suo compagno di merende, King Kong, ci sembrava giusto onorare il lucertolone atomico ricordando il mitico film del 1998 firmato Roland Emmerich. Signore e signori, abbandonate ogni vergogna e benvenuti nella prima puntata di Guilty Pleasure. Prima di partire, ecco a voi le tappe fondamentali che ci hanno portato al sommo Godzilla del 1998. 1992, la Three Star Pictures annuncia di aver acquisito i diritti dalla Toho per produrre una trilogia di film su Godzilla, con la clausola di rimanere fedeli alle pellicore originali giapponesi. Ci sono voluti dieci anni per raggiungere l'accordo. 1993, un regista con gli occhiali a montatura tonda e il gusto per l'avventura dimostra al mondo che si può far correre un T-Rex al cinema. 1996, Will Smith picchia un alieno con un pugno e salva il mondo. 1998, esce in sala Godzilla, da quel giorno in poi conosciuto agli amici come Gino, Godzilla e Name Only, il cugino un po' tonto a cui finisci per volergli bene. La prima sensazione che hai guardando Godzilla è che sostanzialmente Roland Emmerich abbia fatto il film per far saltare in aria le miniature di New York che gli erano avanzate da Independence Day. Nell'ordine il Flatiron Building, il Chrysler Building e il Madison Square Garden. Il cinema di Emmerich è tutto più o meno così. Grandi esplosioni e sentimenti repubblicani. Un filone artistico degenerato negli anni che lo ha portato a ottenere la laurea honoris causa in Disaster Movie. Titolo per la cronaca cui nessuno ambiva a Hollywood ed intorni ma vinto a mani basse dall'Emerich nazional popolare quando quasi vent'anni dopo deciderà di girare un film con la data di scadenza nel titolo. Quindi Emmerich decide che è il momento di mettere mano a Godzilla, ma a modo suo. Settembre 1998, MTV trasmette in heavy rotation il video di Puff Daddy, featuring Jimmy Page, Come With Me. La canzone riprende gli accordi di Kashmir Dale Zeppelin e li mette dentro a un videoclip dove Puff Daddy in totale delirio di onnipotenza se la prende con un ascensore, viene scagliato in cielo e si trasforma in uno stormo di colombe bianche. Non scherzo, è tutto su YouTube. La canzone era tamarra da far paura, il video era infarcito di scene prese dal film dove un mostro gigante distruggeva New York e faceva esplodere tutto. Invece il video della seconda canzone usata per promuovere il film era girato dentro una sala cinematografica allagata, dove un tipo con un cappello strano ballava sopra delle macchine ma non si vedeva Godzilla. Non c'erano palazzi che esplodevano, per la cronaca la canzone era Deeper Underground e Dejamiro Quay. Probabilmente chi ha visto Godzilla all'epoca da ragazzino se lo ricorda come un filmone e di fatto per i primi 40 minuti lo è anche. O almeno sembra avere tutte le carte in regola per esserlo. L'arrivo di Godzilla in una New York grigia avvolta dalla pioggia in cui i puntili esplodono e le macchine sobbalsano, mentre qualcosa avanza inesorabilmente devastando la città ancora oggi in suo fascino. Il problema è che si è costantemente in equilibrio tra essenzialità e spacconeria, tra far vedere poco e far vedere tutto. Così in breve tempo si arriva al punto di rottura. Ma se eri abbastanza perspicace, te ne accorgevi all'inizio del film che qualcosa non quadrava. Perché dopo essere stati a Panama e nelle Fiji e averlo capito grazie alle comode di Descaliers, quando all'orizzonte si defila lo skyline di New York e compare la scritta The City Dead Never Sleep, ti rendi conto che ti hanno venduto un colossal, ma stai guardando una caponata. L'enormità di questa verità si palesa davanti a te quando letteralmente Godzilla sparisce. Nessuno trova più un mostro di 60 metri che fino a 5 minuti prima giocava a farsi rincorrere dagli elicotteri tra i palazzi di New York. E tu ti chiedi perché? Perché l'iguana modificata geneticamente ha deciso di scavare dei tunnel sotto la città per trovare un posto dove deporre le uova. Quindi l'unica maniera per stanarlo o stanarla è quello di scaricare quintali di pesce nel centro di Central Park, per arrivare al finale in cui i protagonisti scappano da Godzilla a bordo di un taxi giallo in una sequenza che finisce per assomigliare più ad uno sketch di Ben Hill che all'apice della tensione di un film sui caju. L'unica attinenza che ha questo Godzilla repubblicano con il prodotto originale e un personaggio asiatico che all'inizio del film guarda spaventato un accendino e simile Godzilla! Godzilla! Basta! Perché ad Emmerich non interessa. A lui interessa trovare un modo per passare da un'esposizione all'altra, facendo risultare gli americani buoni e simpatici. Perché alla fine il nocciolo della storia è che tutta colpa dei francesi brutti e spocchiosi che facevano esplodere le bombe nucleari vicino alle uova di guana mentre mangiavano croissant. Insomma, rivisto oggi con l'occhio dell'adulto disincantato, Godzilla del 1998 è un brutto film a cui però non puoi che volergli bene. Screditato e preso in giro da tutti, venne ufficialmente ribattezzato nel 2004 in Zilla dalla Toho stessa, che riuscì solo dieci anni dopo a dare alla luce un film degno dei re dei mostri made in USA. Eppure dentro di sé Zilla aveva tutte le caratteristiche dei blockbuster moderni, ma peccava di ingenuità, figlio come era dei suoi tempi. Tanto da essere in qualche modo precursore della deriva cacciarona delle ultime pellicole del Monsterverse. Perché in fin dei conti a quell'enorme faccione di guana sei affezionato? Quindi corri piccolo Zilla, continua ad insegnare a tutti come si trasforma un soffio atomico in un ruttino da riflusso castrico. E voi che ricordo avete del Godzilla del 98 e soprattutto vi piace questa rubrica sui Guilty Pleasure? Che film vorreste vedere in questo angolo del peccato? Fatecelo sapere nei commenti, noi ci risentiamo presto, sempre qui sugli schermi di Scrivord.